Dunque, come nasce l'idea di questa mostra Memoria d'Arte? Chi lo organizza? Nasce dal Circolo Pink e l'idea è quella di dare forza al 25 aprile. Forza dal punto di vista culturale, di un momento in cui politicamente spazio non c'è nessuna cosa di più, soprattutto a Verona con il dono di Commissione, che è legazionista, che comunque è il quesito di arrazzismo, eccetera, eccetera, tutto questo si conosce già. Come Circolo Pink abbiamo pensato di dare voce a degli artisti, a delle artiste, 42 persone, un centinaio di opere per creare una collezione, una collezione che vuole fare una memoria collettiva con un'idea molto semplice che è quella di chiedere a spazi in città, a tre spazi in centro, che fossero disponibili per spiegare questa mostra. La cosa è che in città hanno collaborato a nove spazi in città e si è creato un percorso che è giudato tutto il mese di aprile con nove inaugurazioni, nelle quali appunto si è dato la possibilità ad artisti e a persone di poter ragionare, riflettere, pensare con un altro linguaggio sui 25 aprile. Ci sembrava al minimo un modo intelligente, un modo aperto, anche un modo alto di rifare politica e soprattutto di supportare le ragioni del 25 aprile. Ho visto delle installazioni, due in particolare che mi hanno coltito, uno di un fotografo che ha vissuto direttamente ai campi di sterminio o comunque i campi di concentramento e un altro di un pittore che ha dipinto, disegnato, illustrato appunto i campi di concentramento. Dove parlare di questi due artisti in particolare? Il studio artistico di loro è deceduto che con uno di Galdi lui ha fatto degli scatti tra i 43 e i 45 nel campo di Kiel in Germania. Questi scatti li ha fatti furtivamente con delle macchine fotografiche che gli aveva lasciato un militare inglese che aveva capito che lui aveva la possibilità di far cose, era anche abbastanza intraprendente e quindi in grado di poter muovere all'interno del campo senza essere appunto sorpreso durante questi scatti, che ha testimoniato. Gli abbiamo appena il Ciccolo Stic, che sembrava il modo migliore per onorare questo partigiano e gli scatti sono di una profondità, di un'intensità incredibile, sono veramente belli. L'altro artista piettore è Bocchetta, che è conosciuto in tutto il mondo e lui ha fatto dei disegni riprendendo situazioni nel campo di concentramento di Blossenburg dove lui è stato intervento. Quindi sono disegni carichi di una roscia che si coglie subito a tempo d'occhio, però molto molto belli, con un segno preciso, infatti benissimo, nella tronda lui è un artista di fama internazionale, ma non riconosciuto a Verona, d'altronde normalmente i grandi non sono riconosciuti nella loro città di regione internazionale. Ascolta, che eco ha avuto a livello di giornali, di media questa mostra? Guarda, noi ci siamo mostri più che altro sul punto di vista artistico e culturale, perché abbiamo scelto un canale di informazione che andasse a toccare questo spazio giornalistico e mediatico e quindi ci siamo comunque riusciti, siamo finiti su tanti tipi di siti soprattutto che si occupano di artisti, ma anche su testate locali e abbiamo raggiunto il manifesto. Questo fa tanto piacere, dare un taglio nazionale ci sembrava molto importante e anche come lo in quest'anno è così, nel primo anno, ne faremo un altro e sicuramente questo ci è servito per misurare e calibrare il percorso. L'anno prossimo parcerà la seconda edizione, saremo molti più organizzati e riusciranno probabilmente anche qui a farlo forse a livello nazionale e quindi con risalto che merita. Va bene, io ti ringrazio tantissimo e bocca al lupo per le prossime edizioni. Grazie Grazie